Il maltempo del 2 giugno colpisce in modo pesante la Puglia, in particolare l'agro di Capitanata nella provincia di Foggia e la zona nord della Bat, con diversi comuni a cavallo tra i due territori colpiti dalla grandine nelle ore pomeridiane. Circolazione rallentata, lunghe code e anche incidenti stradali nel tratto della strada statale 16 bis che collega l'area per diverse decine di chilometri. Nel pomeriggio di domenica, in territorio di Borgo in Coronata, un sinistro ha causato l'interruzione del traffico, proprio sulla 16 bis. Quattro auto coinvolte lungo l'arteria nel Foggiano, fortunatamente senza gravi conseguenze per gli occupanti delle vetture. Danni anche nelle campagne circostanti, con il meteo che ha condizionato pesantemente la prima domenica di giugno. La grandine si è estesa in particolar modo sui comuni di Ordona, Carapelle e Cerignola, arrivando a toccare anche terreni alle porte di Trinitapoli e San Ferdinando. Disaggi ridotti nella sesta provincia pugliese, ma con gli automobilisti costretti a portare attenzione alle precipitazioni per gran parte della domenica, scongiurati danni a raccolto nella BAT, situazioni in aggiornamento in Capitanata con diversi terreni agricoli colpiti in maniera più grave.